Sicuramente questi eventi sono estremamente importanti per l'utente finale perché sappiamo che le nuove applicazioni fanno sempre più uso massivo dei dati che vengono raccolti dall'utente finale senza che l'utente finale effettivamente se ne preoccupi. È chiaro che dobbiamo sensibilizzare l'utente finale e anche i lavoratori all'interno dell'azienda per capire effettivamente quali dati vengono resi poi diffusi e condivisi con altre entità, con altre aziende perché devono essere intenzionalmente a condividere i dati con le altre aziende che ne fanno uso e quindi la sensibilizzazione deve passare attraverso questo tipo di eventi perché l'utente apparentemente sembra per adesso non interessato, però in futuro sarà sicuramente molto interessato a questo tipo di problematiche.